Non le mani si fa così, anche a voi, spontaneamente. Sì, un giorno, magari, il canzio della vita volerò. Sì, un giorno, magari, un bimbo, sembra tutta una buona serenità. Poi, una notte di settembre, mi sveglia e il vento sulla pelle. Non sento le mani pronti sui mani, sul mio corpo è il chiarore delle stelle. Chissà dove è la casa mia. Tengo il bambino che, se lo chavo è il bambino, io voglio un vagabotto. Passiamo la musica. Non ho capito che non sono altro. Sono in tasca, non ne ho. Ma lassù mi è rimasto, oh Dio. Sì, musica da me! Dice il scioglio, questo lo senti un bel asso un po' più. A poco a destra. Perché se questo momento, momento a destra. Sì, la strada è ancora là. Un esatto mi sembrava la città. Un esatto mi sembrava la città. E io voglio sentire poi, dopo, io. Un esatto. Un esatto. Una notte di settembre, me ne andai. Il fuoco di un cammino Non è caldo come il sole del bambino Chissà volerà a casa Di quel bambino che dobbiamo scoprire Io, vagabondo, questo mio Io, vagabondo, che non sono altro Sono in tasca, non vero Ma non sono un miei maschio di io Non ho parole, sulle vai! Tutto sta regolando, e tutto sto sto Sono in tasca, non vero Ma non sono un miei maschio di io Ma non sono un miei maschio di io Ma non sono un miei maschio di io Sono in tasca, non vero Ma non sono un miei maschio di io Bravo! 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 No, brave, brave alle nostre ragazze Che devo dire non me le aspettavano neanche loro Se le aspettavano, infatti quando andavo verso il microfono E loro... ... ... ... Ragazzi, grazie a questo punto veramente vi posso concedere Facciamo un applauso anche alle nostre cantanti, improvvisate Ma bravo, tutte intonate, devo dire Tutte veramente molto intonate Bene, allora mi vado a riaffiottare della schialetta che ho lanciato da queste parti Ti concedo il microfono perché adesso è giunto il momento di tornare a chiamare, sapete chi? Sono simpatici perché la giuria ha un attimo di tempo per... ...ha bisogno di un attimo di tempo chiaramente per andare a deliberare Dopo scopriremo... Anzi, anche voi, potete fare il totomiss Potete dire, secondo me mi sorrisonei E vi fate il caffè, per dire, no? Ho la macchina La signora, la cena Brava signora Lei le dica tutte Va bene Allora, allora andiamo a chiamare i nostri prossimi ospiti Che sono, signori e signori, l'insengen Tornano con la simpatia E questa volta con un numero molto 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 bello e difficile Fortunello e Marbella Ragazze Possiamo andare Fortunello e Marbella tornano con noi Sono pronti Fortunello e Marbella, grazie!